Il titolo di questa puntata, come trovare clienti senza bruciare soldi in pubblicità. Entriamo un attimino proprio nel merito di questo, raccontami qualcosa, come dire, argomentiamo questo super titolo. Sì, allora, ovviamente, come tu hai detto spesso nelle puntate precedenti a questa, come ripetiamo spesso, queste puntate del nostro podcast Marketing in Edilizia nascono da domande o da comunque evenienze in cui i clienti con cui lavoriamo si trovano, domande che ci fanno, dubbi che hanno, evenienze, condizioni in cui si trovano a dover lavorare, insomma, problemi che si trovano a dover affrontare. E una di queste domande era così ben circostanziata, che noi l'abbiamo presa e l'abbiamo voluta trasformare in una puntata. E cioè, la domanda era, come posso trovare nuovi clienti senza svuotare la cassa in costose campagne e pubblicità dei suoi social? Quindi, ecco, questo era il cappello introduttivo che mi sentivo di fare, proprio perché sappiamo sempre che noi andiamo, parliamo di cose che nella realtà succedono, ecco. Quindi, è un po' di rientrare, no? Perché effettivamente Marketing, pubblicità, ovviamente può avere una infinita strada, no? Di modi per cui, appunto, questi soldi possono essere spesi o, tra virgolette, bruciati, anche se ricordiamo il Marketing deve sempre essere un investimento, dove c'è il dispeggio vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Ma si sta parlando, appunto, di Marketing inteso per quanto riguarda la gestione delle sponsorizzate, quindi Facebook e Google. Siamo all'interno, diciamo, di questa parte, vero? Esattamente, esattamente. È stato benissimo a sottolinearlo e a precisarlo. Ovviamente, io immagino che chi ci ascolta si sia fatto questa domanda tantissime volte, proprio perché i social tutti vogliono farlo. Sono un mondo che comunque mantiene ancora il suo fascino e anche la sua funzionalità. Tra l'altro ne abbiamo parlato in un'altra puntata prima di questa, abbastanza recente. Andatevelo ad ascoltare se l'avete persa per qualche motivo. Però è anche vero che utilizzarlo in maniera profittevole, cioè senza dispendio, senza spreco, in modo che sia un investimento, è in tutt'altro paio di maniche. Cioè, bisogna comunque avere un'attenzione particolare e bisogna avere anche idee molto, molto chiare. Questo, chiaramente, chi si occupa di qualcosa per lavoro, per professione, che non sia marketing in senso stretto, è una competenza difficile da avere e da costruirsi nel tempo breve. Anche di questo parliamo spesso, però quello su cui mi vorrei focalizzare in questa puntata è mettere un attimo da parte i social, quindi che sia Facebook, che sia Instagram, che sia anche TikTok, per chi vuole lanciarsi su TikTok, perché spesso tendiamo a vedere questi social come delle piazze caotiche dove tutti urlano per attirare l'attenzione del potenziale cliente. E' chiaro che in una piazza così caotica come sono appunto i social oggi, in questo momento, per farsi sentire serve un megafono molto potente, quindi, ovvero, serve un modello professionale che vuole la sua spesa, la sua buona spesa. Ecco, questa era l'introduzione che volevo fare. Ma c'è uno scenario alternativo a questa cosa qui, per cercare clienti, per trovare clienti, senza per forza dover rischiare di fare un investimento su TikTok, se magari si è all'inizio e si vuole fare un investimento anche da soli, magari, no? Cioè, si cerca magari di trovare il modo di fare questo investimento lavorando da soli su questa cosa, il modo c'è e basta cambiare scenario. E questo scenario, che non comprende i social, per assurdo, si affaccia su un mercato ancora più vasto, dove le persone non vagano senza meta, con persone, intendo, i clienti, i potenziali clienti delle aziende che operano in edilizia, nel qual caso, ma sono alla ricerca precisa di ciò di cui hanno bisogno. Sto parlando di Google, insomma. Quindi, come alternativa ai social, per trovare nuovi clienti, senza per forza dover fare un investimento rischioso, oltre che costoso, quello di cui sto parlando, di cui vogliamo parlare qui, è Google. Perché su Google, la voce della singola azienda che vuole farsi vedere, che vuole porsi all'attenzione di nuovi potenziali clienti, può essere più chiara, può risuonare più forte, più chiara, rispetto a quanto può servire farlo su Facebook. Questa è la differenza che ancora oggi sussiste e che ancora oggi possiamo tenere presente. E quindi sfruttarlo, ovviamente, al nostro vantaggio. Chiaramente, in questo affollato e ricco mercato digitale, perché sappiamo che, ovviamente, oggi il mercato online è chiaramente pieno, sono tutti riversati sull'online, sono tutti lì a strillare la loro proposta, eccetera, eccetera. Che cosa succede su Google rispetto a Facebook? Su Google succede che i potenziali clienti atterrano sulla pagina di Google cercando già prodotti e servizi precisi. Quella che nel gergo si chiama ricerca consapevole. Facciamo un esempio molto semplice, perché tutti quanti utilizziamo Google. Quando io vado su Google e cerco un fondotinta, perché siamo fra... Esatto. Io non è che cerco, dico su Google, cosa da mettermi in faccia per pianificare la pelle. Io cerco fondotinta. E molto spesso, se ho già in mente che tipo di fondotinta cerco, metto anche la tipologia, metto la marca. Quindi io vado a fare una ricerca consapevole, so già che cosa voglio. Io arrivo su Google con già la mia idea precisa. Quello che un'azienda può fare è intercettare la mia domanda e rispondere direttamente a questa domanda. Ecco che cosa Google ti permette di fare in più e in maniera più completa ancora rispetto ai social. Cioè Google risponde anche in maniera più veloce magari rispetto ad altri. Quello che dovreste fare. Assolutamente, assolutamente così. Infatti, ecco, se un'azienda che opera in edilizia nel nostro caso decide di emergere in questa vasta piazza, può farlo con un investimento un pochino più leggero rispetto a quello richiesto in questo momento storico sui social. Ma che offre grandissimi risultati, soprattutto nel lungo termine. Perché, questo lo anticipo adesso, l'avrei detto più tardi, però lo anticipo adesso, non bisogna dimenticare che tutti i risultati che si raggiungono su Google, chiaramente lavorando nel tempo, eccetera, eccetera, durano di più rispetto a quelli che danno i social. Cioè durano di più nel tempo. Noi sappiamo che un post su social, soprattutto se viene fatto in organico, quindi non sponsorizzato, non dura tanto. Cioè, in 12 ore è superato, non compare più nel nostro scroll del cellulare, eccetera, eccetera. Mentre invece, un lavoro fatto su un voltura di più nel tempo. Perché si raggiunge quello che si chiama un posizionamento. Cioè, le persone possono trovarti su Google, se ti sei posizionato, anche a distanza di anni. Infatti, insomma, non vi stupite, lo potete provare se andate a fare una ricerca qualsiasi su Google e c'è il caso che verranno visualizzate delle pagine che sono state fatte, sono state create, di siti che sono state create indietro nel tempo, qualche anno fa. Sono ancora lì perché hanno raggiunto un buon posizionamento, hanno lavorato bene il posizionamento e quindi si fanno trovare. restano lì. E questa cosa succede senza dover fare ricarico continuo di sponsorizzata, di denaro, eccetera, eccetera. Ecco in che senso possiamo considerare questo investimento alternativo ai social. Soprattutto per cominciare. Questo è un ottimo modo. Ecco, Google non va assolutamente preso sotto gamba. Anzi, anzi. E poi soprattutto si tende a pensare che Google sia molto più complicato rispetto ai social. Anche questa è una cosa che io vorrei un pochino sfatare perché come tutte le cose che non si conoscono può fare paura, ma in realtà ci sono delle regole molto semplici da seguire. Che cosa intendo con molto semplici? Che dipendono dall'obiettivo che uno vuole raggiungere. Allora, è inutile imparare, non lo so, la stratosfera come funziona se ti interessa raggiungere un determinato obiettivo. Ogni obiettivo ha le sue regole. Basta imparare quelle regole per raggiungere quel determinato obiettivo. E poi un'altra cosa molto bella di Google è che ti permette di fare le cose per step, per step consecutivi. E anche in questo, tu azienda che vuoi lavorare su Google, che decidi di prenderti la piazza su Google, puoi vedere veramente sotto i tuoi occhi come le cose cambiano giorno per giorno, mese per mese, anche anno per anno se uno decide di fare un lavoro più grande, e decidere lì per lì come muoversi. Perché appunto la crescita su Google è più spalmata nel tempo, ma anche più ordinata da seguire. Questo rispetto ai social, che è un mondo molto più caotico, è possibile ancora farlo. Quindi dà anche una certa tranquillità, no? Nelle persone che magari, ovviamente, nei titolari d'azienda che ovviamente non si occupano di marketing, poter seguire con più calma, con più ordine, questo processo di crescita, dà sicuramente un senso di sicurezza diverso. Noi l'abbiamo visto con i nostri clienti, no, Margherita, tu mi puoi dare un consiglio in questo, ci puoi dare un consiglio in questo, quando vediamo magari, mese per mese, i blog dei nostri clienti, come si muovono, come si posizionano. La cosa molto bella che Google ti permette di fare è appunto andare a vedere quanto ci siamo posizionati nel tempo e soprattutto quanto si è cambiato, cresciuto o a volte anche diminuito il nostro posizionamento e quindi ci dà delle indicazioni su cosa dobbiamo effettivamente fare affinché possiamo tornare nella famosa prima, seconda pagina, che è una meta sempre molto ambita dai nostri clienti. Come diceva Valentina, appunto, monitorare questo aspetto è fondamentale e molto spesso questo monitoraggio con Google è possibile farlo con Facebook, essendo effettivamente una piattaforma, un social vero e proprio e che quindi ha contenuti che sono molto più fruibili, che passano subito di moda, è molto più semplice fare questo monitoraggio con Google perché effettivamente acquisisce uno storico rispetto a Facebook, questo è fondamentale. Ma un'altra cosa che voglio aggiungere dal punto di vista di quello che è un utente è che ormai Facebook ce l'abbiamo tutti, sì, è vero. Ormai Facebook, no, sappiamo tutti quanto sia diventata uno step normale, essenziale, cioè io sono la prima che se cerco qualcosa mi faccio la mia bella ricerca su Google e poi cerco anche su Facebook, no, magari informazioni relativamente a quel prodotto, a quell'azienda. Però molto spesso, ancora da una fetta importante comunque di utenti e per utenti intendo i clienti finali, i social possono un attimino sare di fuffa, possono comunque avere questo aspetto un pochettino di eh vabbè ma lo dice Facebook, quindi non è che lo sta dicendo la NASA. Google invece mantiene ancora quel senso, quel sentimento di autorità che assolutamente non dobbiamo trascurare, ma che anzi dobbiamo incrementare maggiormente, quindi questo è importante. È fondamentale essere presenti online, essere presenti su tutto le mille, miliarde di piattaforme che il mondo dell'online, come diceva Valentina prima, diciamo sono ormai ci sono, quindi è fondamentale sia comunque un'attività, un'azienda, essere presente tanto su Google quanto su Facebook, perché è veramente importante. È importante soprattutto curare anche la pagina Facebook, quello che noi diciamo sempre, cioè se avete una pagina Facebook, non lasciate i post vecchi, con la, diciamo, l'immagine a Natale 2020, se siamo già a Marche 4, cioè cerchiamo comunque di dare l'idea di un'azienda all'avanguardia, di un'azienda evoluta, di un'azienda che comunque ci tiene molto, no? Ad avere anche una presenza, perché è importante, questo viene percepito un po' quando, quando entri in un ristorante, no? se vai in un ristorante che è rimasto un po' fermo agli anni Ottanta, per quanto si possa mangiare benissimo, l'impatto non è sempre, no? Il top. Si vuole, entri, diciamo, in un ristorante dove si mangia anche un po' meno bene rispetto alla trattoria da nonna Cecilia agli anni Ottanta, però ha un aspetto fresco, giovane, utilizzano colori nuovi, hanno oggetti di design, beh, sicuramente l'impatto, no? È sicuramente, emotivamente parlando, molto più positivo. Questo dobbiamo far, dobbiamo, come dire, cioè trasportarlo anche in quello che è il mondo dell'online, cioè la regola fondamentale è non puoi esistere come azienda solo sulla, come dire, cioè solo su profili fisici, ma devi essere presente anche nel mondo dell'online. Però è fondamentale appunto andare a scendere con queste due piattaforme che effettivamente, come ha detto Valentina, lavorano in maniera completamente diversa. Ora ti faccio una domanda, un po' precisa, però è giusto poi dare delle indicazioni anche abbastanza precise. Guido mi perdonerà se in questi podcast cerchiamo di essere molto, molto generosi nei vostri contenuti. Esistono dei consigli, dei metodi affinché possiamo utilizzare Google magari anche in maniera gratuita meglio rispetto a quanto stiamo facendo ad oggi? Cioè se proprio ci puoi dare dispensare qualche consiglio? Certo, anzi, Google permette proprio di fare un lavoro ecco, anche in questo mi si perdonerà un attimo la licenza artigiano, cioè nel senso vai a sgrossare e a lavorare proprio alla base della creazione della tua presenza su Google in maniera molto ordinata, molto precisa, in maniera proprio artigiana. Questa cosa Google te lo permette ancora di fare, quindi se noi abbiamo già la mente artigiana come sono moltissime persone che ci seguono partiamo un attimo già vantaggiati come mindset diciamo. Dunque, usare Google in maniera in maniera profittevole fin dai primi step questa cosa è fondamentale quindi attenzione predisporsi sempre ad un certo tipo di lavoro a un certo tipo di mentalità perché altrimenti come si sbaglia non passo si sbaglierà si sbaglieranno a cascata tutti gli altri. Ora, il lavoro che si può fare su Google permette sì di acquisire tanti nuovi clienti nel lungo periodo con un investimento anche contenuto diciamo un investimento che si può fare anche una tantum e come si fa? Adesso vediamo si fa creando dei contenuti contenuti che parlino direttamente al cuore dei potenziali clienti e che allo stesso tempo siano anche interessanti per Google stesso. Il cosa vuol dire? essere interessanti per Google stesso essere dei contenuti che siano interessanti per Google sono quelli che Google reputa reali veritieri degni di fiducia e in pratica di utilità per chi li deve consumare. Parlo per esempio dei contenuti informativi allora i contenuti informativi che spesso si trovano nel blog e che noi anche produciamo molto proprio perché funzionano tanto sono quelli che appunto forniscono delle informazioni su determinati prodotti su determinati servizi di cui le persone hanno interesse a informarsi su Google quindi per esempio se noi chiediamo prendiamo il caso dei serramenti delle informazioni sui serramenti in PVC o sui serramenti in addominio o sui le porte interne i cilindri delle porte interne tutte queste informazioni sono tutte informazioni che le persone che non sono attenti ai lavori ovviamente cercano mettiamoci dal lato dei consumatori quante volte noi cerchiamo delle informazioni su alcuni prodotti di cui non sappiamo niente o comunque di cui sappiamo molto poco perché non siamo del settore bene tutte queste informazioni Google innanzitutto le ritiene utili per il cliente per il cliente finale quindi questa è diciamo la prima cosa a cui dobbiamo pensare l'utilità il beneficio diretto che con la creazione di determinati contenuti che andiamo a riversare su Google possiamo dare al nostro potenziale cliente questa equazioncina Google la reputa di grande valore e ci aiuta a posizionarci nel tempo ovviamente con un lavoro postante come diceva Margherita prima in prima o in seconda pagina noi diciamo in prima perché la seconda pagina per noi già non è l'obiettivo finale ecco l'obiettivo è sempre comunque la prima pagina i primi risultati quindi bisogna quello che bisogna fare è cercare innanzitutto di creare questi contenuti con empatia con empatia vuol dire non lo dirò mai abbastanza andando incontro ai bisogni e alle richieste del potenziale cliente questo perché se non c'è empatia marketing non ci può essere e di conseguenza non ci può essere vendita quindi non basta essere presenti online ricordarsi questa cosa ma essere rilevanti e fare in modo che le persone possano trovarci facilmente faccio un altro esempio se un potenziale cerca sono sempre nei serramenti serramenti minimali minimali in alluminio a Milano o finestre in legno a Roma e tu lavori su quelle piazze e vendi proprio quei prodotti è fondamentale che il tuo sito o il tuo blog superi la concorrenza non è solo una questione di presenza ma è una questione di primato nelle ricerche cioè bisogna puntare ad essere la prima scelta che salta agli occhi questo è il posizionamento in buona sostanza e per farlo ovviamente occorre lavorare di creazione di contenuto creazione di contenuto che cosa intende? non intendo solamente l'articolo del blog per quanto comunque l'articolo del blog essendo il blog un'attività che si fa in maniera continuativa quindi diciamo che magari nel mese il blog può uscire due volte come quattro come una volta però è continuativa nel tempo rispetto non so per esempio all'home page del sito che magari uno lo fa una volta poi la va a rinnovare molto più in là nel tempo però in realtà proprio le pagine che chiamiamo fisse anche se non è molto corretto dirlo però anche le pagine che sono quelle fisse standard tra virgolette del sito quindi anche lì dentro dobbiamo creare il contenuto di quelle pagine che sono il nostro sito quindi è una cosa importantissima per noi in modo tale da andare a rispondere direttamente alle domande dei nostri clienti cioè a quello che i nostri clienti cercano alle assicurazioni che vogliono ai servizi ci sono tantissime persone magari uno non se lo immaginerebbe oppure sì ci sono tantissime persone che si chiedono ma dopo che mi avete installato i nuovi serramenti dei vecchi che ne cioè me li lasciate a casa me li devo smaltire io questa informazione darla sul proprio sito significa raggiungere come dire scavalcare la concorrenza perché noi diamo un'informazione su una cosa a cui le persone sono interessate molto interessate che magari la concorrenza non dà dare questa informazione ci rende ci fa spiccare agli occhi dei nostri potenziali clienti ci permette di sfavalcare la concorrenza come vedete fino a questo momento io ho parlato pochissimo di investimento di denaro se non nulla chiaramente anche su google si può investire assolutamente è possibile fare delle campagne google che sono anche molto remunerative danno ottimi risultati però noi qui stiamo parlando di cominciare a rendersi conto di come utilizzare una piattaforma senza per forza almeno all'inizio fare un investimento consistente un investimento di soldi ovviamente consistente perché un posizionamento quello dico proprio da copywriter si può raggiungere anche in organica e cioè lavorando solo di contenuto lavorando solo di SEO quella che è l'ottimizzazione sui motori di ricerca senza dover per forza inizialmente fare un investimento di denaro io parlo di contenuti ma l'ottimizzazione non riguarda solamente i contenuti riguarda anche per esempio banalmente quanto è veloce il sito perché chiaramente più tecnicamente il sito è fatto bene e più è navigabile più è facile da navigare per le persone più le persone non usciranno più dal nostro sito perché si troveranno bene a navigare lì troveranno tutte le informazioni che desiderano e le troveranno anche in breve tempo quindi attenzione a questi due aspetti creazione di contenuti che rispondono a delle precise domande a delle precise esigenze esatto esigenze dei nostri potenziali clienti e facilitazioni dal punto di vista tecnico date alle persone tutti gli strumenti per trovare quello che cercano in buona sostanza è questo se voi vi scocciate ad aspettare una pagina che si apre in dieci secondi invece che cinque anche i vostri potenziali clienti si scocceranno di aspettare che il vostro sito si apra in dieci secondi anziché cinque attenzione dieci secondi detta così sembra un tempo brevissimo ma in realtà online è un secolo e mezzo praticamente quindi questa cosa per esempio non deve mai succedere un'altra perdonami se interrompo facciamo attenzione a come il nostro sito possa apparire anche da mobile perché questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato ricordiamoci che la gente oggi passa veramente tantissimo tempo con il telefono in mano è un'informazione la cerca da cellulare e non magari accedendo al computer anche perché parliamoci chiaro oggi tutti abbiamo il computer a casa ma per chi fa un lavoro particolare magari non lo accende neanche quindi cosa fa la sera sul divano non si mette con il tablet in mano o col portatele in mano ma vi cerca utilizzando questo strumentino qui quindi facciamo in modo che il nostro sito sia consultabile navigabile in maniera molto veloce semplice e che ci dia informazioni anche da cellulare perché questo spesso è un aspetto che viene sottovalutato tantissimo invece tale ora da un punto di vista tecnico è chiaro che chi si occupa di edilizia chi fa l'imprenditore è molto difficile che sappia programmare un sito eccetera eccetera però se decidete di dare di assumere di ingaggiare un professionista per creare o per rinnovare il vostro sito beh sapere che cosa come questo sito esattamente deve essere per funzionare è un grande vantaggio quando si va a parlare anche con un professionista del marketing e si va a discutere appunto dei servizi che volete affidargli è chiaro che se voi avete in mano tutti gli elementi affinché il lavoro che vi viene consegnato può arrivare veramente a funzionare nel tempo beh significa che quell'investimento che avete fatto ne passa la pena non avete bruciato ecco appunto per riprendere il nostro titolo non avete bruciato soldi anche in questo senso abbiamo messo questo titolo a questa puntata proprio creare consapevolezza in quello che è un sito che funziona un contenuto su google che funziona e soprattutto che funzionerà nel tempo perché come ho detto prima tutto quello che noi andiamo a creare in termini di contenuti di qualsiasi tipo di contenuto poi il contenuto è anche un video se è fatto bene dura nel tempo e arruola clienti nel tempo ecco perché non è come una campagna social che una volta che la spegni ha finito di funzionare quindi di dare il risultato un contenuto che voi mettete su google sul motore di ricerca continua a lavorare per voi a 24 a natale a pasqua a ferragosto tra tre anni se è fatto bene se nel frattempo non succede qualche altra cosa che magari mi inficia la funzionalità continua a lavorare nel tempo e ovviamente vi posiziona lavora sulla vostra autorevolezza e veramente può aprire il rubinetto dei clienti attenzione quindi la regola diciamo aurea principale è attenzione sempre perché al centro di questo tipo di comunicazione ci siete voi ma ci sono sempre i vostri clienti cioè c'è sempre l'esigenza quello che i vostri clienti vanno cercando quello che i vostri clienti cercano da un professionista dell'edilizia quindi è sempre questo al centro toglietevi dal palco dal centro del palco mettete il cliente al centro e vedete che improvvisamente il contenuto cambia proprio di cambiare e funziona è una cosa importante e in chiusura voglio dare questo ultimo consiglio cioè veramente mettete le esigenze le richieste dei vostri clienti al centro intervistateli date loro attenzione cioè fatevi proprio la lista buttate l'anero su bianco di quelle che sono le domande le paure i timori le esigenze le richieste che i vostri clienti vi fanno paradossalmente quando un cliente vi contatta quando entra in scirocco da voi quando vi richiede un preventivo su quali paure si sofferma particolarmente su quali sono le voglio dire le tematiche che ha necessità di approfondire partite da quelle cioè non dobbiamo inventarci chissà cosa partiamo da quelle che sono le esigenze che i vostri clienti hanno a dire Sanbelli siamo bravi sappiamo farlo meglio di qualcun altro siamo bravi tutti possiamo farli tutti ma se io invece scrivo e parlo con la lingua del cliente andando a catturarlo e a dire caspita stai parlando di un qualcosa che a me interessa stai parlando di una paura che è anche la mia beh sicuramente cioè avete molta più possibilità di essere come dire cioè visti da quel cliente di acchiappare quel cliente rispetto comunque ad altri quindi partite veramente da loro e soprattutto la domanda che dovete farvi alla fine di questo podcast è per quale motivo i clienti scelgono me o hanno scelto me quale problema io riesco a risolvere ai miei clienti se non avete una risposta a questa domanda è un problema importante e mi raccomando cioè soffermatevi fate attenzione e cercate di dare comunque una risposta a questo interrogativo perché parte tutto poi da lì è fondamentale esatto io volevo solamente aggiungere un'ultima un'ultima riflessione da dare potete fare questo lavoro anche se partite da zero assolutamente sì il consiglio è sempre quello di non avere fretta se partite da zero non abbiate fretta perché Google è una piattaforma che ha bisogno di un po' di tempo diciamo proprio da un punto di vista tecnico per capire chi sei che cosa fai qual è il valore che offri però una volta che Google ha recepito tutto questo quindi ha masticato i tuoi contenuti i vostri contenuti a quel punto veramente si apre un mondo di opportunità di possibilità che può crescere nel tempo chiaramente con la giusta strategia che poi ovviamente più andate avanti più la strategia si complica ovviamente no cioè si aggiungono nuovi elementi per andare sempre a migliorare il risultato che si vuole offrire però il tempo bisogna considerare uno span di tempo per produrre per avere risultati per leggere quei risultati e fare ancora meglio quindi si può partire anche assolutamente da zero così come si può partire da metà o da in alto assolutamente il segreto uno dei segreti è sempre anche quello di rispettare il tempistico della verità forma questo assolutamente sì come spesso vogliamo bene dopo questa lunghissima puntata siamo andati oltre diciamo il nostro telco di podcast ma ricca ricca piena di spunti di contenuti anche per chi magari mastica un po' meno questi argomenti vi salutiamo e vi invitiamo ovviamente a magari recuperare qualche puntata che avete perso ci trovate sui nostri canali youtube o spotify ci vediamo alla prossima alla prossima grazie ciao ciao Grazie a tutti.